Rimaniamo sempre a Jesolo, dove il Consiglio Comunale ha votato le modifiche al regolamento sull'imposta di soggiorno 2014. L'imposta entrerà in vigore il primo giugno e rimarrà in vigore fino al 30 settembre. Sostanzialmente è stata confermata l'esenzione per i gruppi e per i bambini fino ai 12 anni. Vediamo comunque le tariffe che sono state pubblicate online. Per gli appartamenti ed affittacamere l'imposta è stata fissata a 0,60 centesimi, per i campeggi a 4 stelle a 0,70, per i 3 stelle 0,60, mentre per i 2 stelle ed una stella a 0,50 centesimi. Nelle strutture ricettive alberghiere a 5 stelle saranno da versare 2 euro, in quelle a 4 stelle 1,50 euro, 1 euro per i 3 stelle, nei 2 stelle invece 0,60 centesimi, in quelle a 1 stella a 0,50 a notte. Il Consiglio e la Giunta Comunale hanno di fatto ratificato quanto concordato con l'associazione di categoria direttamente interessata all'imposta di soggiorno e quanto ha dichiarato il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia. Abbiamo proseguito nel confronto recependo i suggerimenti laddove era possibile. Non cambia il periodo massimo di applicazione dell'imposta, quindi se una famiglia soggiornerà a Jesolo per 15 giorni pagherà l'importo solo per i primi 7 giorni di vacanza. I proventi derivanti dall'imposta, quindi circa 2 milioni e 200 mila euro, saranno utilizzati per favorire una vacanza mediamente più lunga a Jesolo, offrendo intrattenimento per tutte le età, in tutte le piazze e tutte le sere, ha spiegato l'assessore al turismo Daniela Donadello. I grandi eventi per la prossima estate saranno ufficializzati il prossimo 10 aprile.